Dopo una lunga stagione siamo arrivati a una storica semifinale. Finalmente il palazzetto si riapre. Saremo 500 al Carnera. Abbiamo bisogno che i decibel siano quelli di 3.500 tifosi perché dobbiamo continuare a sognare tutti insieme. Forza Appi! Ciao ragazzi, questo è il momento più importante della stagione. Siamo arrivati a giocarci una storica semifinale per Udine. Sappiamo che possiamo essere veramente in sintonia anche se in pochi ma comunque vogliamo che voi vi facciate sentire come se il palazzetto ne contenesse 4.000. e saremo vicini anche con le persone che non ci saranno ma sono sicuro che i tifosi che entreranno ci faranno sentire il loro calore. Vi aspetto veramente a braccia aperte perché anche noi giocatori non vediamo l'ora di abbracciarvi e conoscerci visto che quest'anno siamo stati distanti e per questa semifinale ci ritroveremo. Grazie a tutti!